Aperta la corsa al municipio di Gorizia per le elezioni dell'11 giugno. Buonasera dalla TGR del Friuli Venezia Giulia, in apertura c'è la politica con l'avvio della campagna elettorale per le amministrative di Gorizia. Si vota tra circa due mesi e oggi i candidati hanno inaugurato le rispettive sedi elettorali. Rodolfo Ziberna, candidato per il centrodestra, scende in campo a Gorizia con l'appoggio di otto liste. Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, Unione di Centro, Autonomia Responsabile, Pensionati, Popolo di Gorizia e Aiutiamo Gorizia. Noi ci collochiamo sul solco operato dal sindaco Romoli e intendiamo perciò riproporre quella stessa coalizione che ha consentito al centrodestra, unito, di vincere a Monfalcone, di vincere a Pordeone, di vincere a Trieste. La nostra priorità, il lavoro, i giovani, la salute che è un diritto, cercare di fermare l'immigrazione incontrollata e assicurare perciò alla nostra città altri dieci anni di buon governo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.